Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi è martedì 21 gennaio e siamo qui dagli studi di Belluno. Vi auguriamo una buona giornata e vi ringraziamo come sempre per l'ascolto, per la vostra attenzione, perché siete fedeli nel seguirci in questa rassegna. Allora, oggi cominciamo dalla copertina del Corriere delle Alpi. Adesso ve la cerco e ve la mostro per chi ci segue su Facebook e sui nostri canali digitali. Ve la voglio mostrare subito con le notizie estremamente negative che riporta perché dà conto, purtroppo, di due disgrazie che sono successe ieri con altrettanti morti. Due persone morte si registrano nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio. Si tratta di questo, in Comelico, un diciottenne nel corso di un'escursione è precipitato ed è morto in un canalone. Il titolo è proprio questo, insomma, sul Corriere delle Alpi. Diciottenne precipita e muore in un canalone. Con questo sommario, giovane di Santo Stefano, era uscito per un'escursione in compagnia di un amico. E con il cane è scivolato facendo un volo di 300 metri. Inutili i soccorsi scattati, non vedendolo rincasare. Poi andiamo a vedere a pagina 28 qualche particolare su questa tragedia, purtroppo. L'altra notizia, ed è la foto grande di prima pagina sul Corriere delle Alpi, riguarda un incidente accaduto in Val Belluna nell'ambito di operazioni, lavori agricoli. Un trattore si è rovesciato e il conducente è morto. È successo mentre l'uomo stava cercando di sistemare un'area su cui c'erano degli alberi tagliati da rimuovere. Travolto e ucciso dal trattore mentre taglia la legna. Sbalzato dal suo trattore mentre recuperava un tronco con l'argano è rimasto schiacciato dal mezzo. Ha perso la vita sul colpo Gioachino Mazzorana, 73enne pensionato, residente a Navasa di Limana, che ieri pomeriggio stava facendo legna in un bosco di sua proprietà in località Pionbei, lungo la strada che porta a Val Morel. Queste sono le due notizie gravi su cui adesso andremo a leggere qualche particolare in più entrando nel giornale. Ma vi leggo le altre notizie in prima pagina che sono queste. L'UNCEM, l'Unione dei Comuni degli Enti Montani, appello al governo, i piccoli negozi vanno salvati. Il servizio di Francesco Dalmasse a pagina 17, siamo sempre sul Corriere. Pronto un documento, dice il lancio, con tutte le misure necessarie per tutelare le terre alte. Poi da Feltre è un alpino l'autore del furto nella sede Ana, come peraltro si sospettava perché non c'erano segni di effrazione. L'uomo ha confessato, è stato messo alle strette e ha confessato, dice il lancio. Il colpevole ha restituito i 4.000 euro rubati. Feltre, maltratta la moglie e il figliastro, intervengono i carabinieri, l'uomo viene tratto in arresto. Per Arolo, una folla commossa e tanti amministratori cadorini all'ultimo saluto. A Nanni Boni, che è stato per tantissimi anni sindaco, amministratore nel paese cadorino e anche con incarichi più elevati. Longarone, bosco a fuoco, a Podenzoi, 60 lanci dall'elicottero per domare le fiamme. Poi il taglio basso, i custodi del territorio, che è questa rubrica che il Corriere delle Alpi, molto bella, che il Corriere delle Alpi ha avviato. L'azienda Agricola, La Fragola, Silvia e Cristian, una storia d'amore e di piccoli frutti, riferendosi appunto ai frutti di bosco che l'azienda prepara e coltiva. Allora, vi dicevo degli incidenti di ieri. Sono a pagina 28, dove c'è la notizia relativa all'incidente di Campolongo di Cadore, del ragazzo morto. Allora, tragedia ieri sera sulle montagne del Comelico, dice l'articolo. Un giovane di 18 anni, di Santo Stefano, durante una passeggiata è scivolato in un canalone, facendo un volo di 300 metri, ferito l'amico che l'accompagnava. Il giovane era uscito nel pomeriggio di ieri in compagnia del suo cane e di un amico per fare un'escursione tra Baita Pian dei Osei e Monte Col. Una passeggiata che magari aveva già fatto, che questa volta però è stata fatale. Siamo a quasi 2000 metri di altitudine, in sentieri impervi, in questa stagione ghiacciati, viste le basse temperature di questi giorni. Forse un piede messo male e il giovane è caduto, precipitando per 300 metri. I familiari, non vedendoli rientrare poco prima dell'e21, hanno dato l'allarme al 118. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi sul posto, i vigili del fuoco di Santo Stefano, il soccorso alpino e il SUEM. Secondo quanto si sa, il ragazzo ferito sarebbe riuscito a chiamare aiuto col cellulare, ma poi la linea sarebbe caduta. Malgrado tutto però, i soccorritori sono riusciti a capire dove potevano essere i ragazzi e si sono messi alla ricerca. Il primo ad essere trovato è stato l'amico che si trovava in stato confusionale, con diverse scoriazioni ed echimosi, segno che probabilmente era anche lui caduto. Adesso io non proseguo con la lettura della notizia, ci sono ancora molti altri dettagli che vi invito ad approfondire leggendo per esempio il Corriere delle Alpi. Perché voglio passare all'altra tragedia di ieri? Le fotografie sono anche molto eloquenti, purtroppo con il trattore rovesciato. Limana, sbalzato dal trattore mentre taglia la legna, pensionato muore, schiacciato dal mezzo. Gioachino Mazzorana, 73 anni, era in un bosco in località Piombei, per anni aveva lavorato per l'ente provincia. L'articolo di Alessia Forzin, leggiamo almeno una parte, dice questo, sbalzato dal trattore che stava conducendo, resta schiacciato dal mezzo. Ha perso la vita sul colpo Gioachino Mazzorana, 73 anni, pensionato, residente a Navasa, Limana, che ieri pomeriggio stava facendo legna in un bosco di sua proprietà, appunto abbiamo detto in località Piombei, sulla strada che portava al Morel. A nulla sono varsi i soccorsi, che sono stati tempestivi, troppo gravi le ferite riportate da Mazzorana, rimasto schiacciato dal trattore. L'allarme è scattato alle 16.20 di ieri pomeriggio, Mazzorana era andato nel bosco, in via case sparse, in un terreno di sua proprietà per tagliare legna, stava tirando un tronco, utilizzando un verricello applicato al trattore, quando il fusto si è impigliato. In un attimo il verricello si è bloccato, il mezzo agricolo si è ribaltato, sbalzando l'uomo fuori dalla cabina. Il trattore l'ha poi travolto, provocandone la morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Belluno, personale medico con l'elicottero e i carabinieri, che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell'incidente. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. I vigili del fuoco si sono occupati del recupero del mezzo, operazione che ha richiesto circa due ore. Mazzorana era nato il 20 novembre del 1946, aveva 73 anni, viveva in via Navasa, era pensionato da alcuni anni dopo aver lavorato come dipendente della provincia di Belluno. Si occupava del magazzino di la Cal e della sistemazione delle strade, quelli che un tempo si chiamavano stradini, prima che nascesse Veneto. Strade, non vi leggo oltre, vi lascio andare a vedere il resto dell'articolo sulla pagina, cosa abbiamo detto che siamo, pagina 22 del Corriere delle Alpi. Vi segnalo nella stessa pagina la notizia che Sedico è morto Hermes Pongan, dipendente dell'Ulss 1. Allora, lasciamo questo giornale per andare a vedere qualcosa dalle altre testate e ovviamente sono tutte comunque dominate da queste tristi notizie di cui già vi ho detto. Il titolo che il gazzettino ci mette è muore schiacciato dal trattore e si dà la notizia di cui abbiamo appena letto. Poi altri titoli in rilievo su questa pagina, gara contestata, Italgas fa ricorso alla società contro la decisione dei sindaci di togliere a Belluno la stazione appaltante. Era logico che andasse così, questa è una vicenda bruttina. Italgas ha presentato ricorso al Tar del Veneto contro la decisione dell'Assemblea dei sindaci di revocare al comune di Belluno il ruolo di stazione appaltante nella gara per il servizio di distribuzione del gas. Un atto formale, quello dei primi cittadini, che di fatto ha interrotto o solo rallentato, questo lo scopriremo dopo la decisione del giudice, l'assegnazione della rete a Italgas. Nel ricorso sono finite anche due lettere del comune di Belluno. Per riassumere velocissimamente questa vicenda, sapete che i sindaci bellunesi, che sono riuniti nel BIM, e il BIM è stato spezzettato in varie aziende, gas, acqua, come sappiamo, si è arrivati alla cessione delle reti del gas e i sindaci avevano affidato a Belluno il ruolo di stazione appaltante, cioè il ruolo del comune di Belluno doveva occuparsi dell'appalto, della gestione del bando per l'assegnazione delle reti del gas. Senonché i sindaci hanno gradito male il fatto che fosse stata messa una cifra a base d'asta del valore delle reti del gas bellunese, secondo i sindaci, ben più bassa di quello che si poteva porre come punto di riferimento, solo se si fosse guardato per esempio al valore di questo tipo di reti in Trentino invece che alla media tratta dal Veneto. A questo punto è nata una polemica col comune di Belluno e sono nati fuori degli inviti formali a sospendere la gara, invece il comune è andato avanti, ha aperto le buste e di fatto si è visto chi era destinato a vincere il bando, Italgas appunto un colosso, a questo punto i sindaci per evitare che la cosa vada avanti hanno tolto al comune di Belluno l'affidamento di questo ruolo e questo ovviamente ha portato al ricorso di Italgas che dice ma come io avevo vinto e adesso buttate all'aria tutto il tavolo, non è possibile, era tutto prevedibile. Quindi per quello vi dicevo, un gran brutto pasticcio ed è molto brutto che amministratori locali abbiano operato in questo modo, insomma come minimo poco avveduti e sulla storia del BIM potremmo dirne finché si vuole sulla mancanza di avvedutezza di questi ultimi vent'anni. Alleghe, il caso dell'allenamento sul lago ghiacciato vietato, così negli anni 50 si giocava a hockey, un titolo taglio basso, trampolino ristrutturato, è solo una tesi di laurea però, un futuro per il trampolino di Zuelli, il manufatto simbolo dell'Olimpiade del 56, può tornare ad essere un simbolo anche in quella del 2026, ipotizzarne un uso per gli agonisti non è però pensabile. Ad esserne convinto Mattia Menardi intasca una laurea all'Uav, l'Università di Architettura di Venezia, rimane interessante comunque perché è giusto così dedicare attenzione a questo oggetto estremamente suggestivo che quando arriviamo a Cortina, prima di Zuelli, vediamo sulla sinistra dove campeggiano ancora i cinque cerchi dell'edizione del 56. E a proposito di Olimpiadi, tra una settimana Confindustria celebra la sua assemblea annuale, quest'anno sarà Olimpica, dice il Gazzettino, ed è vero perché saranno presenti Boccia, Benetton, Malagò e Zaia, giochi di squadra, imprese, crescita e territorio, è il titolo dell'Assemblea Generale di Confindustria, Belluno Dolomiti, in programma martedì prossimo al Teatro Comunale, appuntamento in chiave olimpica, oltre al Presidente nazionale Boccia ci saranno Malagò, Zaia e Alessandro Benetton. Da questa prima pagina però volevo, vabbè c'è riferimento all'incendio di ieri, zona Potenzoi, quindi territorio di Longarone, ma volevo andare sul lancio dell'articolo che poi è a pagina 11, vicenda che ci interessa molto, che abbiamo seguito sempre da questa rassegna, cioè la crisi, l'incredibile vicenda della crisi Wanbao, passivo di oltre 25 milioni, e intanto Castro riceve i sindacati, un passivo di almeno 25 milioni di euro, a tanto dovrà montare il debito del colosso cinese che la scorsa settimana, in una nota ufficiale, ha confermato di proseguire verso l'amministrazione straordinaria. Per accedere alla Prodibis il requisito è che il debito sia almeno due terzi dell'attivo. Ecco, sono state date notizie positive appunto, come dagli ultimi esiti di questa vicenda, adesso stavo cercando l'articolo ma non lo trovo, dunque fatemi ritornare qui alla prima, ah sì perché si riferisce a pagina 2, eccolo qui, Wanbao, rosso a quota 25 milioni, ecco il titolone, nel 2019 il fatturato di ACC si aggira sui 38 milioni di euro, per la Prodibis l'indebitamento deve essere a due terzi, primo scoglio tra i fornitori, primo scoglio i fornitori, tra loro anche gli attuali proprietari, per i metalli l'accordo con Marcegaglia è in scadenza a febbraio. Eccoci, il tempo a disposizione è esaurito, quindi vi devo salutare qui, io vi ringrazio come sempre per averci seguiti, adesso oggi abbiamo provato a proporvi che sarà segna stampa in diretta, quindi un po' di tempo prima per chi ci segue su Facebook, subito dopo su Radio Piave dove verrà poi replicata verso le 10. Noi vi ringraziamo per tutta l'attenzione che ci dedicate, qui sul sito internet siete tantissimi che visitate www.amicodelpopolo.it, grazie, tutto il giorno noi cerchiamo di darvi sempre notizie fresche e poi su Facebook, su Instagram e su YouTube. Vi auguro una buona giornata e grazie ancora per averci seguito, ci vediamo domani, ciao!